Un deposito abusivo con oltre 2.500 kg di fuoco d'artificio è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel corso di una mirata azione di controllo predisposta dal questore di Catania per contrastare il fenomeno del commercio illegale di materiale esplodente. Il blitz ha permesso di scoprire un deposito non autorizzato di fuochi d'artificio realizzato all'interno di un garage di un condominio residenziale nei pressi di piazza a risorgimento. Il materiale esplodente era suddiviso in diversi scatoloni accatastati, peraltro in modo altamente pericoloso, in totale violazione delle disposizioni normative vigenti, tanto da rappresentare un elevato rischio per l'incolumità pubblica. Sono stati individuati anche due uomini di 52 e 66 anni, entrambi catenesi, che avevano la disponibilità materiale del garage deposito, i quali pertanto sono stati denunciati per detenzione illegale di materiale esplodente.